Pins Review Questo è Tinkerbell, benvenuto a Disney World Potete vedere che è un pin-on-pin In fronte potete vedere il castello e il regno e tutto il glitter sulle nuove È un pin bello! È parte di una collezione di 5 pin In la collezione ci sono Stitch, Figment, Mickey e Minnie Vediamo la parte del pin Vediamo che è il pin numero 505 LIMITER EDITION 1500 Released in 2008 Officiale Disney Pin Vediamo i dettagli del pin Quindi, è una collezione di 5 E fu rilassato in 2008 LIMITER EDITION Grazie per aver guardato Pins Review